Non dimentichiamoci che il primo a parlare di brigatisti giudici è stato Silvio Berlusconi il 6 aprile a Milano. Quel manifesto non è altro che l'applicazione di quello che Berlusconi ha già detto. Ecco la sua difficoltà oggi a parlare in questo campo, lui che è il capolista di quella lista. La situazione non è più sostenibile e credo che non possa Berlusconi continuare a tacere rispetto a questa vicenda.